è un grande piacere ritrovare saverio grandi e ritrovarlo in un posto tutto mio ovvero sulle onde panchi ciao saveri e benvenuto ciao ciao un piacere grandissimo per me rincontrarti rivederti dopo un po di tempo un po dai dopo un pochino di tempo noi con queste r che ci hanno sempre come dire insomma comunato e con un amore che ci ha sempre accomunato anche per la musica d'autore infatti la prima domanda arriva diciamo diretta saverio perché immagino che poter pubblicare segnali di fumo poter pubblicare un disco così tuo dopo aver condiviso tanti percorsi diciamo deve essere stato un lavoro intenso profondo e che ha raccolto un sacco di tuoi anni e di tue forze sì hai detto bene diciamo che ho tenuto tante cose dentro anche alcune anche troppo diciamo così e mi riferisco ad esempio alla canzone che si chiama mio padre dove io comunque dico delle cose che avrei fatto sicuramente meglio a dirgli finché era in vita e però diciamo soprattutto l'ultimo anno che è stato difficile per tutti per i motivi che sappiamo bene no dal covida ecco questo è stato diciamo così il motivo scatenante che poi mi ha fatto scrivere tutta una serie di canzoni che erano troppo personali per poter essere cantata da altri fondamentalmente mi sono ritrovato perché scrivendo sempre per altri giustamente ci mancherebbe altro cioè devi comunque mediare tra quello che è quello che vorresti dire te è quello che invece l'artista giustamente poi sai dice è la mia vita la mia storia quindi devo raccontare qualcosa di mio e ci sta però in questo caso mi sono ritrovato con tante canzoni una decina poi sono diventate 15 e e quindi dopo ho detto ma adesso queste qui a chi le propongo perché alcune erano veramente troppo personali un ritratto diciamo sì sì ce n'erano un paio che potevano secondo me essere giusto ad esempio per fare la mannoia o qualcuno che poteva essere giusto per gli stadio hai capito però Gaetano insomma anche tu non è stato bene ultimamente quindi sono noi neanche fate sentire ho detto facciamo questo disco era ora di farlo perché sono un po tipo da una fe che ne fa uno ogni dieci anni quindi non sono di quelli che vanno a ingolfare il mercato no no è vero è vero e infatti se posso dire c'è tutta la cura diciamo di qualcuno che si vede che ci pensa e ci ha pensato no prima di pubblicare questo diario perché alla fine mi piace definirlo anche un diario no perché arrivano sì segnali di fumo però sono anche come dire considerazioni a tratti molto molto intime sì molto intime su argomenti ai quali tengo molto in generale se ci fai caso non c'è neanche una canzone d'amore intesa nel senso classico no hai ragione io sono uno che ha scritto ha scritto prevalentemente canzoni d'amore con gli stadio e anche con tanti altri e qui ho deciso di non metterne nemmeno una perché volevo fare un disco corto perché dico che sai i tempi dello streaming si riescono ad ascoltarne già a metà è già un trionfo hai capito quindi facciamolo di nove canzoni al fine erano dieci nove insomma al fine ho deciso per nove e ogni canzone è come dice te la pagina di un diario cioè parla comunque di un argomento che che mi sta a cuore che può essere ripeto come la comunicazione con segnali di fumo che dà proprio il titolo al disco no o altre canzoni dove tratto delle cose che proprio ho tenuto dentro per un po' hai detto bene te all'inizio no e quindi alla fine mi sono trovato a fare sto disco di cui ripeto sono veramente molto 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 orgoglioso perché mi rappresenta completamente so che lo dicono un po' tutti hai capito però giusto sono sincero mi sono proprio denudato e ho detto facciamo questa roba facciamola così saverio gli eroi silenziosi di cui parli in questo disco no cioè è voglio dire mi sembra una descrizione molto generica no cioè sono quelle persone che appunto che che lavorano duro ma non li vedrai mai no appunto tu dici sotto i riflettori io ho pensato come dire forse complice il periodo che abbiamo vissuto anche a tutto il personale sanitario insomma tutti quelli che soprattutto in quest'ultimo periodo si sono come dire occupati no in maniera ma anche i volontari insomma non so perché la vivo anche come una canzone sociale lo è lo è assolutamente diciamo che la canzone parte da da un principio che è abbastanza difficile spieghere parole perché una cosa interiore però ci provo proprio con due parole mi sono reso conto un giorno che la musica soprattutto la musica italiana aveva dimenticato completamente questo tema che invece c'è stato forse è stato sicuramente il tema principale delle canzoni sabrezzo dell'andrea ad esempio di moltissime canzoni di dalla con il quale ho avuto anche il piacere di collaborare con lucio quindi ed è sempre stato un argomento che mi sa da cuore perché dicono perché nessuno parla mai di quelli che si alzano la mattina le sei prendono un treno fanno i pendolari vanno a lavorare capito perché poi sono l'anima lo so che non questa roba non fa vendere molti dischi capito ma lo scopo non penso sia questo insomma no esatto lo scopo non era quello di vendere i dischi ma quello di dire una cosa capito e quindi quando ho avuto la possibilità ripeto di fare un disco ho detto ma ma che sembrerebbe un atto di vigliaccheria non parlarne e chiaramente oltre alle persone ripeto che sono poi il motore c'è quelli che lavorano duro tutti i giorni quelli che mi venivano in mente che i miei genitori quando ero piccoli capito io avevo la classe operaia di cui parli anche no esatto ci faceva fatica arrivare alla fine del mese e ho detto sai questa cosa qui ma perché nessuno ne parla più allora vabbè se gli altri ne vogliono parlare un loro diritto non mica posso obbligare io però nel momento che faccio un disco io ne parlo capito perché è venuta fuori proprio in un'ora capito quindi perché erano tutte cose che avevo dentro senti e anche la canzone che dal titolo all'album no segnali segnali di fumo c'è una consapevolezza molto autentica no sempre legata un po al discorso che facevamo no ho un tetto e l'acqua il cibo che ci basta la vita che ci basta tutto quello che ci basta ma tu questa riflessione lei fa la facevi già da prima o ti ha aiutato questo stop diciamo questo ultimo periodo in cui insomma le nostre sicurezze un po hanno vacillato ma io la facevo anche prima sicuramente però questo periodo lo ha evidenziato ecco è una considerazione che faccio da sì perché non sono uno che hai capito io anche se avessi 10 milioni di euro 10 milioni di dollari capito non mi comprei una casa di 10 milioni di dollari per ospitarla cioè cercherai di spendere quel denaro per girare il mondo per vedere dei posti che mi piacciono certo per quanto è veramente nuova quindi non lo sto anche segnali di fumo è una canzone secondo me che in realtà c'è due chiave di lettura sono voglio fare il poeta però insomma la chiave di lettura più 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 semplice è quella di una persona che parla un'altra dice non abbiamo bisogno di tanto se abbiamo noi però è anche una canzone sulla comunicazione no che oggi è molto urlata è molto sempre ridata io sinceramente sono anche un po stanco ti dico sarà l'età non lo so insomma è capito però vedere tutta questa gente capito in tv ma sui social continuamente gente che offende ci conosciamo non ci vediamo da un po ma ci conosciamo cioè io non sono così sono uno molto eh c'è anche io ogni tanto perdo la pazienza ma cioè sono sono una persona pacifista sono un vero pacifista capite vedere tutta questa gente che continuamente litiga a volte per motivi seri per la maggior parte dei casi invece per motivi molto futili assolutamente futili ho detto ma ma vi ricordate come comunicavano i nativi americani cioè avevano un codice che poi era silenziosissimo capito non facevano neanche rumore era un codice morse antelettrami quindi anche da lì dopo è venuta fuori è venuta fuori la canzone abbastanza facilmente ecco questa se ti a proposito di hai detto no sono un tipo pacifico scusami ma io ho pensato subito a pacifico al fatto che a gino che è un altro degli autori che insomma che stimo da sempre e mi piace l'idea che abbiate deciso come dire di condividere un brano no poi l'amore crede l'amore può è proprio come dire quasi un manifesto universale guarda come l'hai detto mi hai fatto venire i brividi e gino io non riuscivo a scrivere il testo la verità da e posso dirlo non riuscivo a scrivere il testo di questa canzone a rosso la musica e siccome lo stimo molto abbiamo già collaborato però non abbiamo mai pubblicato nulla insieme l'ho chiamato io ho detto senti qua o c'è da fare tu non c'è da fare nessuno perché erano tutte tronche è vero e lui ci ha lavorato e secondo me ci ha lavorato benissimo infatti quando mi ha mandato la mia mandato il testo io ho detto mamma mia che bravo e lo dico pubblicamente proprio capito perché era difficilissimo erano tutte tronche non essere banali ha scritto tre ritorni diversi qualcosa che non si fa più hai capito per tutti quello uno poi dopo coppia in collo e quindi ha scritto questo testo secondo me bellissimo bellissimo non lo dico perché l'ho cantato io che ha scritto lui e che parla della forza dell'amore cioè l'amore che ci crede anche quando magari noi per oggettive difficoltà a volte non ci crediamo più tanto in lui no e invece l'amore ci crede per te e questa secondo me è un'idea che sai quando quando gli vengono queste idee qui chapeau visto che vive a parigi saverio prima di lasciarci visto che già solo dall'accento tu evochi insomma evochi l'Emilia evochi bologna evochi insomma un anche una zona cantaturale importante con la quale peraltro hai collaborato e collabori no per cui io avrei voglia di chiederti secondo te oggi come sta la scuola bolognese e quali sono gli autori gli artisti con i quali ancora ti senti diciamo più a tuo agio la scuola bolognese sta bene ma non benissimo a questo modo di dire mai nel senso però sai stava meglio una volta perché una volta bologna era veramente il centro cioè gli artisti stanno tutti bene per fortuna però una volta bologna era proprio il centro della musica in italia e lo è stata credo almeno per un decennio oggi io devo dire con le persone con le quali ho collaborato e anche con quelle con le quali non ho collaborato direttamente tipo samuele bersani ha un ottimo rapporto e ho collaborato con luca carboni e che stimolo tantissimo ho collaborato con gaetano ormai parliamo di 30 anni quindi festeggiamo le nozze di non so cosa non so di che cosa sia non c'è qualcosa di importante con vasco sai vasco per me è sempre stato fino a quando io avevo 13 anni andavo sotto il suo palco a lui era già ma era già uno che trova la differenza all'inizio perché si capiva subito che era uno forte poi dopo alcuni sono accorti dopo ma se avevi occhio si capiva con vasco la collaborazione è continuata fino a una canzone amore buttata via che poi tra poco c'è il disco e insomma io sono emiliano hai capito quindi sto bene qui capito sì sì però però mandi segnali di fumo al mondo no è interessante questa questa anche questa lettura se vuoi no del tuo del tuo lavoro c'è l'emilia che sembra chiusa in sé che però poi alla fine insomma lancia noi siamo siamo i primi i primi suddisti secondo me sì siamo quelli un po siamo come si dice sulla linea di confine tra le persone più più aperte che sono quelle insomma che vivono nella parte più a sud dell'italia e quelle magari leggermente un po più chiuso poi ci sono delle eccezioni questi chiaramente sono generalizzazioni un po così capito però però insomma sì sì sono emiliano e 6 e c'è una parlata che basta che dica quattro parole si capisce da dove vengo e ti hanno subito inquadrato che bello bello parla un po come vasco anche la gente dice ma parli un po come vasco non è che parlo un po come vasco ma parliamo tutti così capito è un modo proprio difficilissimo è un accento difficile da togliere ma meno male nel senso che è anche piacevolissimo da ascoltare saverio io ti ringrazio davvero e spero di poter vedere queste canzoni anche dal vivo prima o poi quando insomma sì le cose ecco migliori mi ha fatto veramente tantissimo piacere rincontrarti e ti ringrazio di cuore grazie